Sul sul simers e non bentornati nel mio canale o benvenuti Nel mio canale io sono valuccia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra notte berry challenge bentornati e bentornati in casa rainbow e bene eccoci qua domani sarà la festa della mamma va bene dunque facciamo un attimo il punto della situazione quest'oggi dovremo festeggiare la notte brava vedremo come andrà io ho in mente qualcosa da in realtà organizzare però Vediamo vediamo un attimino allora iniziamo col capo famiglia qua che hai combinato mamma mia Grayson il tratto satto io lo detesto così come detesto il tratto pigro lo sai Grayson ok Grayson sta andando al lavoro è ispirato quindi vai vai tesoro vai vai a lavorare La nostra l'ho beccata qui che stava pulendo ora sta sclerando in realtà perché sta contemplando la vita ma stava lucidando qui stava lucidando la perfezione Tesoro devi stare calma devi veramente stare calma poi ho dato da bere un solutore di stati umorali a questa poveretta perché veramente stava in una condizione a dir poco tragica e deve correre al lavoro è già in ritardo quindi corri tesoro non è nemmeno ospitato una conferenza telefonica ma ci mancherebbe Il nostro Plumbob dall'episodio precedente è tornato a casa stremato come noterete facciamola lavorare sodo poi abbiamo invece Remulf e Prudence che si trovano a scuola il nostro ovviamente lavora sodo anche lui e infine c'è il nostro Nazume sul quale dovremo concentrarci parecchio Parecchio perché sostanzialmente raga Grayson ha finito ha raggiunto tutti i suoi obiettivi quindi ha finito di fare tutto ciò che doveva ora rimangono soltanto sapete le domeniche da organizzare in famiglia ma a parte questo va tutto bene Quello che mi interessa invece adesso appunto dicevo chi mi interessa è Nazume perché l'aspirazione di Nazume è bella impegnativa studiare all'aria aperta l'insegnante annuncia una giornata di studio all'aperto per far uscire i ragazzi dalla classe Se Prudence deve studiare all'aperto o divertirsi con gli amici finché non è ora di rientrare Allora lei per come è fatta e soprattutto in questo periodo il fratello si è addirittura diplomato in anticipo quindi lei studierà all'aria aperta sicuro Lei fa la scelta più seria e produttiva studiando per una mezz'ora in più quando sarà il momento di iscriversi all'università farà sicuramente la differenza Ok tesoro Fosse capitata a Remulf una decisione del genere avrebbe optato per divertirsi ma non dovrei neanche dirvelo più ormai no? Che cavolo hai combinato? Oh ma sei proprio figlio di tuo padre pure te qua che caspita avete combinato? Che disagio Che disagio cerca di calmarti e quindi dicevo l'aspirazione del nostro Nazume è bella impegnativa Qui deve solo diventare un sim adulto e lo diventerà fra quanto tra l'altro Fra ben sei giorni non manca tanto bello di casa e quindi dobbiamo darci da fare perché finché possiamo sfruttare ogni momento utile per Intanto pulisci scusa lucido alla perfezione perché mi dà l'urto proprio vedere sto macello Qui ci penso io va bene ma il resto lo pulisci tu però asciuga e basta forza Dicevo finché possiamo sfruttare no? L'opportunità di farlo insomma Si sta scompisciando davanti allo specchio stiamo messi bene di farli sviluppare abilità e quant'altro perché no raga no? Direi Ascolta musica retro Va bene Vieni qua Accendi Ascoltiamo un po' di musica retro Dov'è? Me la perdo sempre La musica raga Retro Vieni qui ascolta ascolta retro Ok Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a considerare i prossimi step della sua aspirazione Quindi diamo un attimo uno sguardo perché a parte dover diventare un sim adulto e c'è ancora un po' di tempo Per raggiungere questo step quindi il terzo quello di onnisciente deve conseguire il livello 5 di 5 abilità e raggiungere il livello 3 in 2 carriere Ora con il lavoro siamo effettivamente a livello 3 Il nostro è un cassiere del servizio alimentare andrà al lavoro tra 6 ore Lo facciamo per ora continuare soltanto a lavorare appunto no? Nel fast food ma soprattutto con le abilità Perché per quanto riguarda le abilità vi ricordo che abbiamo appena letto che dobbiamo averne 5 a livello 5 E noi attualmente ne abbiamo una Due E stop Quindi io vorrei darmi da fare in questi ultimi 6 giorni dell'adolescenza a far sviluppare attivamente l'abilità di Natsume Perché insomma raga non sia mai che arriviamo al momento della sua storia diciamo che siamo profondamente indietro Perché anche Natsume avrà il suo bel da fare per quelli che sono gli obiettivi della sua generazione Quindi non vorrei effettivamente tralasciare troppo tutto il resto Allora il videogioco secondo me è quello che dobbiamo sviluppare prima insieme al Dov'era 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 il videogioco e il ballo Quindi sì ci sta Più che altro il videogioco e il ballo io le vedo proprio come Una sorta di abilità che vengono tramandate È davvero pesante Grayson deve cercare di sollevarlo Oh mamma raga Oh mamma non mi è mai capitata una cosa del genere Allora ho paura a mettere sì Perché temo che possa col fatto che è pesante e lui è anziano non dovrebbe fare troppi sforzi Che possa schiattare ve lo dico proprio sincera Però da una parte mi sento anche intorto a mettere no Perché Grayson lo solleverebbe Grayson sapete che soprattutto in ambito sportivo È sempre stato quello che ha cercato di superare i limiti Però mi sento di dire no solo per un motivo Grayson si è dato tanto da fare con il suo lavoro Con la sua aspirazione per tutta la sua vita Ora che ha raggiunto una certa età Già da qualche anno comunque Il nostro si è dedicato ampiamente alla sua famiglia Cercando di recuperare appunto il rapporto comunque con Rem Sì con Remulf scusate Con Plumbob e quant'altro Quindi io direi che Magari prima l'avrebbe fatto Ora magari ci pensa due volte Forse è troppo pesante Ma ormai Grayson non potrà più saperlo per certo Chi se ne frega L'importante è che tu sia vivo e che tu stia bene Del resto non ci importa Grayson Detto proprio fra noi Quindi Hai finito? Una volta sistemata la situa qui Che era a dir poco imbarazzante Perché raga veramente sta casa Non lo so è in porcile Tesoro che ne dici di passare l'aspirapolvere? Non ce l'hai tu l'aspirapolvere? Chi ce l'ha? Sei piena di pozioni tra l'altro ma Ce l'ha lui forse Dimmi che ce l'hai tu Ti prego Dimmi che ce l'hai tu Che sei a casa tranquillo E ti sei fregato l'aspirapolvere? No Vabbè Non sappiamo chi ce l'abbia questa cosa Chi è? Gure Gure sta chiamando per chiacchiere Vuoi rispondere? Guarda se si sveglia per tempo Perché no tesoro ma Era veramente tanto provato Prune Mars Rainbow Sta chiamando per chiacchiere Assolutamente sì Certo che risponde Basta basta pulire Te ne occuperai Se ne occuperà qualcun altro Rispondi Dopodiché hai bisogno di divertimento Vai a giocare un po' Giocherai una partita online MySimsRacing online E la giocherai Io vorrei fargliela giocare Con chi ha meno rapporti Quindi con lo zio Perché no Potremmo giocarla Con 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 Fatemi vedere se c'è qualche parente A cui devo dare la priorità Con Purun Mamma Con Purun Proprio zero raga È triste questa cosa E poi con qualche amico Quindi direi Continuiamo con Aurelio Sì Dai Con loro Perché comunque Sono quelli gli amici principali Che ha Molly Non la vedo tanto Sì volendo Enterebbe Cioè chiunque Enterebbe nelle grazie di Natsume Perché Natsume È proprio un pezzo di pane Però Diciamo che Soprattutto Aurelio Per il momento È l'amico più No Fidato diciamo Qui fa caldo tesoro Quindi non lo so Mi indossa questo Ci siamo cambiati un attimino Toh Guardate che meraviglia De homo Vai Vai a videogiocare Va Chi è che può Chi è che può Vantarsi Di poter restare a casa Da un lavoro Da scuola Quel che è E videogiocare Ma voglio dire Sei fortunello Basta Basta tu con sta musica Pensa a riordinare Pensa a sistemare A pulire Facciamo che a questo punto Vai tu al piano di sotto Mi rendo conto Che la situazione È a dir poco tragica Ma Madonna che casino Che fa sto coso Dove è sporcato Tuo marito Qua Quindi per cortesia Viene ad asciugare Questi Te li metto io in tasca Perché so già Come va a finire Se no E quindi in realtà Per la notte brava Io avevo pensato Di organizzare Un'uscita Al maschile Perché questi uomini Effettivamente Li vediamo Non lo so Un po' poco Insieme Oggettivamente Sarebbe stato carino Organizzarne una Al femminile Vediamo un po' Se abbiamo tempo Perché Insomma Tanto devono tornare Tutti dal lavoro Quindi vediamo Come possiamo Organizzare la faccenda Che c'è tesoro Sei amichevole con Natsume Ma certo Ma quanti panni Ci sono qua Per il resto È tutto pulito Tesoro Usa lo sciacquone Questo è tuo marito Tuo marito Si lo so Serve tanta pazienza Hai ragione pure tu Ma visto che ci sei A questo punto Vai E ti concedi Un bel bagno Con la schiuma Guarda Rilassati Noi stiamo un po' In compagnia di Natsume Allora Natsume Come va? Tutto bene? Sì Ti vedo concentrato Natsume Proprio Sì Ci crede raga Proprio tanto Otteniamo lo sto livello 5 Dai Dall'altro poi Le successive abilità Su cui dovremmo darci da fare Sono La cucina sicuramente Ha sbagliato la concorrenza Sfoggiando la sua maestria virtuale Nessuno lo chiamerà più Nubo Ok Ora gioca una partita Per affari tuoi Insomma Io direi di Sicuramente lavorare Sul Sulla cucina Non Però quella non vorrei Proprio lavorarci attivamente Cioè non è che vorrei Metterlo lì a cucinare Cucinare Fino a che non raggiunge Il livello 5 Perché non ce lo vedo Comunque così No Come dire Improntato Per la cucina È un'abilità che svilupperà Nel tempo Quindi proprio per Darci da fare Darci da fare Io gli farei sviluppare La forma fisica Perché comunque Degno figlio di suo padre Secondo me Un pochino Sapete quando Vieni cresciuto Sua madre Comunque È fissata Comunque una guru Eccetera Quindi anche lei Si dà da fare Con la forma fisica Gradisce la musica retro Ma sì Perché no Assume ce lo vedo Un po' appassionato Di musica retro Suo padre Ha proprio senso Comunque Volevo farlo Sulla scrittura Non a livello Di libri Cioè lui Non scriverà libri Non ce lo vedo A scrivere libri Però potrebbe iniziare A svilupparla Perché lui Dovrà fare La carriera di medico Quindi secondo me Più che altro Lo farà per cercare Di migliorare la grafia Che di solito Si dice che i medici Hanno una grafia brutta Poi non lo so Io Mi astengo Da questa cosa Però la scrittura Effettivamente Sapete un po' Esercitarsi già Magari a Prescrivere Ricette Cose del genere Io Sì Ce lo vedo Quindi per il momento Abbiamo Recitazione No Non mi convince Né pittura In realtà Io non ce lo vedo A sviluppare queste cose Ma nemmeno la comicità Lui è uno abbastanza impostato Quindi Non lo vedo troppo Forse la cultura selvadoregna Ma per una questione Proprio Come posso dire Di hobby Ecco Di curiosità Mettiamola in questo modo Ok Tra l'altro ha fame Tu Hai bisogno Vieni qui tesoro Partecipa alla partita Che ne hai fortemente bisogno Tu stai una meraviglia Perché hai uziato tutto il tempo Quindi in realtà Non hai fatto una mazza faggia Però va bene E anche tu Hai fame Sarebbe divertente Far cucinare Natsume Per una volta Ma sì Dai Quando lei torna Magari gli chiede proprio Tesoro Vogliamo quindi Preparare qualcosa Per merenda Eh perché giusto quella Ormai potete fare Visto l'orario Tesoro bentornata Come va tutto bene Sì allora Vieni solo qui Anzi sai cosa fai Guarda la partita Immaginiamo che chiacchiere Gli faccia qualche domanda Proprio mentre stanno giocando Tu invece Verrai qui E anche tu potresti Effettivamente guardare la partita Raggiunto livello 3 Per la nostra prudence Forza Natsume Raggiungici sto livello 5 Facci felici Rendi tutti noi felici Così poi ti spostiamo Alla cucina E nel frattempo Potreste chiacchierare Credo di no Il che è una cosa Che mi urta Terribilmente Raga Perché Boh Non riesco a capirne il motivo Perché due persone Che stanno videogiocando Non dovrebbero chiacchierare Però va bene Chiedile come sono andati Gli esami Più che altro Chiedile questo Della sua giornata Del tipo Allora come sono andati Gli esami Ormai È un peso Che non devo Di cui non devo più Preoccuparmi Ah Una guerra è stata Ma Tutto bene Tutto bene Peso da spada Nella roccia Certo tesoro Ha molto senso Quello che hai detto Ah sì Che domande vi hanno fatto Niente di strano Spero Non ancora argomenti strani Tipo gli alieni Ma ti pare che dobbiamo Parlare di esami Mentre stiamo videogiocando Sei proprio strano Natsume Io devo andare a cucinare Piuttosto Ah Vieni tu a cucinare Tesoro Questo si è alzato Flirtante Sì Lui vuole sposarsi Vuole ascoltare musica Da cortile Quindi vieni qui Vieni 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 a No 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 Vieni a cambiare stazione E facciamo Proprio Se la trovo Perché o raga Mi perdo sempre Dov'è quella da cortile Non la vedo Giardino Non lo so Dovrebbe essere questa Forse ascolta Giardino Intanto proviamo questa Comunque Al di là di tutto Tu prendi il posto Ah deve sbrigarsi Grayson ha portato a casa 3000 simoleon Ben fatto Grayson Gioca a pallacanestro Per essere attivo E tra l'altro Lui vuole ascoltare Le melodie strane Ma avete proprio Tante cose da fare Vieni qui Vieni qui Sì Ripensa ai bei tempi E da un bel bacio A tua moglie Va che ultimamente Le cose Sono state Dai un bacio suave Dai Lui prenderà Il posto Del nostro Natsume Quindi partecipa La partita Natsume fa Guarda io Devo mangiare qualcosa Prima di Di andare al lavoro Quindi Vieni qui Potresti cucinare Qualcosina Proprio al volo Sì Poi ci penseranno gli altri A buttare il cibo Servi la cena Ma sì Serviamo qualcosa Di pratico All'inizio Tipo panino Con hamburger Una cosa molto semplice Panino con pollo fritto No dai Facciamo il panino Con l'hamburger La vedo una cosa più Insomma Da Da giovincello Mettiamola così Ok Avete finito di giocare Voi? Sì È bellissimo Insomma Ho capito Ma devi cucinare Dai che devi andare Al lavoro Mannaglia raga Mi fanno dannare Questi Comunque In tutto ciò Ma come Gure ha diffuso De pettegolezzi Piccanti su Gresi Gresi non c'è più Ma Gure ma cosa mi combini Io non ho parole Vi giuro Non ho parole Comunque In tutto questo Però abbiamo Una Due Ben tre Abilità Su cinque Quindi Con il ballo Saremo a quattro E a questo punto Con la fotografia Perché per il momento Anzi Con la forma fisica Io vorrei che sviluppasse Più la forma fisica Che la fotografia Perché La vedo più La sorella Più social In realtà Quindi magari Con la forma fisica Saremo finalmente A cinque Qui che cosa abbiamo Fatemi capire Rendi felice Un altro sim E incontri Gli altri compagni Di classe Orientata agli obiettivi Tra l'altro sì Lei dobbiamo farla Lavorare anche Su questa cosa qui Quanto tempo abbiamo Tesoro Uh Undici giorni Ce n'è di tempo Invece tu Fra quanto passi D'età Cinque giorni Mamma mia raga Stanno per diventare Giovani adulti Io non ce la faccio Cioè Da una parte Non vedo l'ora Dall'altra però Insomma Sono emozionata Allora dunque Cerchiamo di darci da fare Tu devi diventare Un sim Adulto Ok Raggiungi livello 3 Nella cadena di guru Tecnologico E creare un videogioco O un'app Quindi Al momento Direi che Mentre aspetti Che si prepari Tutto Quanto Ti puoi sedere qui Tirare fuori Il tuo bel computer Che tu dovresti avere Sempre con te Giusto E dedicarti A creare un'app O un videogioco Perché no Vediamo un po' Programma Modifica un videogioco Mamma addirittura Crea il plugin Esercita Acera Oddio ma Non è però Creare un'app O un videogioco Forse ancora Non ci siamo A livello di abilità Clicca sul computer Seleziona Crea un videogioco O un'app Della categoria Programme Si possono sbloccare L'interazione Aumentando la probabilità Di programmazione Immaginavo Perché tu al momento Quanta abilità hai Di programmazione Beh un po' pochina Quindi facciamo che Magari ti eserciti Proprio programmando Non voglio fargli Creare nient'altro Per il momento Perché vorrei che Appunto no Potenziasse questo Prima Loro due stanno qui Stanno chiacchierando Tu che stai facendo